Allora Antonio Conte parlerà presto, lo dico subito, così rispondo a tutti quelli che mi stanno chiedendo perché non parla Conte, sono preoccupato quando parla Conte c'è qualcosa sotto perché è in silenzio, lo farà probabilmente all'inizio della prossima settimana, molto probabilmente anche accompagnato da un dirigente per presentare la stagione, sicuramente al più tardi lo farà in vista del debutto in campionato che avverrà tra una settimana, lo ricordiamo contro la Fiorentina il 26 settembre. Nel frattempo però ha parlato il presidente Steven Zhang e non è un dettaglio banale, è stato intervistato il numero uno del club benerazzurro dal Corriere della Sera, una intervista interessante e sinceramente sono dichiarazioni che ci stanno, prima di far parlare l'allenatore parla il presidente, sono dichiarazioni che personalmente aspettavo, probabilmente più di quelle di Antonio Conte, per il quale ci sarà tempo. Perché? Perché questo è un momento molto particolare per tutto il calcio e lo è anche per l'Inter, lo state vedendo anche voi, i tifosi sono in fermento costante, anche nelle nostre live, chi ci segue tutti i giorni vede che basta davvero pochissimo per accendere sempre la miccia e lo vedete anche nei vari commenti alle notizie sui social. Quindi Steven Zhang, presidente dell'Inter nelle sue uscite pubbliche, soprattutto nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, diciamo così molto misurato e attento, ci ha dato dei messaggi secondo me importanti che ci anticipano un po' quello che dobbiamo aspettarci anche sul calciomercato appunto. Vi mostro sul nostro sito www.passioneinter.com le parole del numero uno nel razzurro, qui siamo sul titolo, la mia intera è sulla strada giusta, l'incontro con Conte è stato drammatizzato e sul mercato, ha parlato anche di mercato. Ovviamente ci sono diversi passaggi su Antonio Conte, chiaramente che vi consiglio di andare a leggere, ci sono poi anche dei passaggi riguardanti il sogno Messi, un investimento simile non può rientrare nel nostro progetto, almeno non in questo momento, anche questo passaggio ha lasciato qualche segnale di speranza per i tanti tifosi. Io però mi sono segnato in particolare alcuni passaggi di questa intervista che vado a recuperarvi, l'Inter ha una missione, un piano, strategie rivolte naturalmente verso la vittoria, ma non solo, vogliamo crescere costantemente rispettando i nostri obiettivi, credo proprio che la strada intrapresa sia quella giusta, lo sento, sia a livello societario che di squadra, noto l'empatia ideale per lavorare nel migliore dei modi. Poi, soprattutto, c'è una domanda importante, secondo me, perché gli viene chiesto, proprio testuale, la domanda è stata data all'indicazione a Marotte Ausilio, quindi allo staff che si occupa del mercato, di vendere prima di comprare, quindi gli viene chiesto di fatto se questa è una strategia che viene imposta, diciamo così, dall'alto. La risposta a questa domanda la trovate qui e vi leggo la prima parte, che è quella, secondo me, più interessante. Anche questa indicazione, cioè vendere prima di comprare, è rivolta a un programma di crescita costante della società e della squadra, e quindi conferma che c'è stata questa indicazione. Il calcio sta vivendo un momento delicatissimo, turbolento a livello internazionale, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa sessione di mercato, ma dovrà essere rispettato anche in futuro. Fa parte di un messaggio di continuità all'interno di un progetto di stabilità finanziaria. E qui, ragazzi, c'è un messaggio importante che risponde anche alla domanda, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato dell'Inter? Ve lo ha detto di fatto Steven Zhang. Segniamoci queste parole, l'input, quindi prima vendere e poi comprare, arriva direttamente dalla proprietà, e l'area tecnica è ovviamente tenuta a rispettare quelli che sono i diktat, che arrivano da chi i soldi poi ce li mette. Ed allora so già che a questo punto molti di voi mi risponderanno nei commenti su Ning ha il braccino corto, i cinesi sono tirchi, mi hanno stufato, e frasi simili, ragazzi, non è così, nel senso capisco il vostro sfogo, capisco che si sogni sempre grandi colpi e che si sia anche stufi di aspettare trofei che non arrivano da tanti anni, Senza tornare però su quanto è stato fatto da Suning nell'Inter, fino ad ora voglio sottolinearvi dei dati che arrivano dalla Gazzetta dello Sport, nell'ultima edizione pubblicata, che spero vi facciano un po' capire che la situazione è veramente delicata. Lo è per tutti e quindi lo è anche per l'Inter, che però, nonostante questo, mia opinione ad oggi, in questo momento, già ora, è un'Inter più forte dell'Inter 2019-2020 e con i giusti correttivi, con gli ultimi tasselli da mettere insieme, parte attrezzata per fare una stagione davvero protagonista, diciamo così, non ci sbilanciamo oltre. Cosa ci sottolinea dunque la Gazzetta dello Sport? Vado a condividervi un'altra schermata, una schermata che riguarda, vi tolgo anche il banner sopra, il monte in gaggi. Allora, il ritorno alla base di molti calciatori, innanzitutto dai vari prestiti che non sono stati ceduti e che quindi adesso appesantiscono la squadra, l'Inter non sta riuscendo a vendere diversi giocatori e questo ha prodotto innanzitutto un allungamento della rosa spropositato, l'Inter ha una rosa enorme. Questo è prima di tutto un problema tecnico di gestione delle risorse tecniche, quindi anche l'allenatore si trova ovviamente in difficoltà, ma non è solo tecnico, perché il monte in gaggi, come vedete, dell'Inter, ragazzi, è cresciuto tanto, anzi è cresciuto troppo rispetto alla crescita, se facciamo il parallelo con la crescita dei ricavi e del fatturato dell'Inter in questo periodo. Da settembre 2019 a settembre 2020 vedete i dati, da 139 milioni a 197 con i giocatori ori rosa, a questi si vanno ad aggiungere poi anche i 23 milioni dello staff tecnico. Quindi sono tanti soldi, un aumento enorme, a questo va aggiunto che l'impatto del lockdown sui conti dell'Inter lo sapremo, lo potremo quantificare concretamente e correttamente solo una volta pubblicato il bilancio, quindi non sappiamo ancora qual è l'impatto reale. Nel frattempo si sono persi circa 45 milioni di euro che erano garantiti da alcuni sponsor asiatici che non hanno rinnovato i propri contratti, 15-20 milioni di euro di ricavi da stadio in meno, il merchandising in meno, che ha segnato anche qui una contrazione, così come i diritti televisivi che sono stati rivisti. Senza contare tra l'altro gli scenari futuri, perché non sappiamo ancora se e quando, cioè se ovviamente sì, ma quando si tornerà alla normalità, sono saltate le tournee estive che di soldi ne portano e in generale c'è una situazione molto intricata per tutti quanti. Anzi, ragazzi, vi devo dire che molti addetti ai lavori in termini di mercato dicono che probabilmente per il calciomercato il peggio deve ancora venire, lo vedremo forse tra gennaio e soprattutto tra un anno. Quindi, il progetto tecnico di Suning, ragazzi, non voglio farvi spaventare, diciamo così, va avanti. E questo è anche quello che trapela dalle parole del Presidente, c'è l'obiettivo ovviamente di rinforzare la rosa, e lo stiamo vedendo anche adesso, ma ora più che mai, tornando alle dichiarazioni appunto che abbiamo letto, aspettiamoci tante operazioni finanziarie prima che tecniche. Lo avevamo accennato, è ancora più evidente adesso. Sarà un mercato, il questo e i prossimi, in cui si muoverà pochissimo e quasi sicuramente l'Inter non potrà fare, diciamo, la protagonista assoluta, andare a puntare quel giocatore e prenderlo a suon di milioni se prima non gli fa corrispondere una cessione di valore quantomeno simile, se non identico o superiore. Il costo squadra, soprattutto adesso, va necessariamente abbassato. Il costo squadra è la somma delle spese per gli ingaggi e del costo dei cartellini dei calciatori nel singolo anno. Sapete, i cartellini si dividono su più anni. Questo costo va assolutamente abbassato e poi va soprattutto mantenuto in linea con i ricavi che stanno risentendo di questa situazione particolare. Questo non significa, come detto, che il progetto si ferma. Significa che si dovranno fare delle scelte anche impopolari che magari all'apparenza possono sembrare inconcepibili, come ad esempio liberare qualche giocatore anche con un incentivo alle cosiddette buone uscite pur di far spazio in rosa e soprattutto a bilancio e poi mettere dentro qualcun altro che il suo costo magari lo spalma più a lungo termine per mantenere questo equilibrio. È difficile da accettare, ovviamente tutti vorremmo grandi colpi, soprattutto adesso che abbiamo visto che l'Inter ha costruito delle solide basi e basta aggiungere alcuni tasselli per poter fare un grande salto in avanti. Però ragazzi è una situazione così, detto un po' scherzando ma neanche troppo, è la stessa situazione che ci siamo ritrovati anche costruendo la rosa nel fantacalcio di Passione Inter. Ho costruito anch'io la mia squadra dei sogni e poi ho visto che non ci stavo nei 250 crediti. Sono dovuto partire tagliando qui e là, facendo tanti sacrifici anche dello Rosi e poi siamo arrivati a costruire la rosa. Scherzi a parte, vendere prima di comprare sarà così in questo finale di mercato, lo abbiamo visto. Bisognerà cedere qualche giocatore per poi sbloccare i colpi in entrata che alcuni, soprattutto, sono stati già impostati. Vi dà un esempio, Darmian lo stesso. E questo varrà per questo mercato e probabilmente anche per i prossimi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, spero di essere stato chiaro ovviamente. Vi ricordo, a proposito di fantacalcio, che in descrizione trovate il link per iscrivervi alla Lega di Passione Inter sul sito Fanta Paz. L'iscrizione è gratuita, ma se volete avere accesso ai regali esclusivi e a tanti altri contenuti esclusivi come una chat a voi dedicata e delle dirette dedicate e molto altro ancora, trovate in descrizione anche il link al nostro Patreon che vi darà accesso a molti contenuti speciali. Ovviamente è totalmente gratis. Cliccare sul pulsantino iscriviti, aiutateci a raggiungere quota di 10.000 iscritti. Fatelo adesso! Grazie a tutti!